Esuberanza, profumi ricolati all'alcol che arrivano in maniera anche un pochino più aggressiva sul naso, andiamo a sentire in bocca, ecco un vino, però ecco in bocca probabilmente è molto meglio il 2002, sembra quasi una fragola, un lampone, frutta abbastanza fresca, ha una buona freschezza, quindi se la pente l'uva colta è il momento giusto. In bocca effettivamente è molto meglio del naso. Ma poi mangiandoci insieme... Buono, effettivamente vivace, l'alcol non si sente, rimane questo lampone bello vivace, un pochino speziatino, un po' di liquirizzina, direi che in bocca è veramente piacevole, che non mi sarei aspettato, dei 2003 piacevoli è difficile trovare, altrimenti è un vino importante, non leggero, non snello, però piacevole che si beve volentieri un altro bicchiere. Bellissimo! Ora bene! Grazie! Grazie!